Ciao a tutti ragazzi, un saluto da me e dal piccolo Astor che stava riposando, poverino Allora, vi voglio mostrare questo nuovo pacco che è arrivato da parte di Berkin è arrivato questo programma mensile, quindi di questi croccantini che arrivano ogni mese appunto, che sono fatti apposta per Astor, sono 7 kg e comunque basta un mese davvero comodo perché questo servizio ti permette che non c'è bisogno di uscire perché comunque te lo portano direttamente a casa ed è abbastanza comodo visto che comunque il sacco è abbastanza pesante e quindi non c'è bisogno che uscite per questo mese all'interno c'era appunto i croccantini 7 kg, quindi il piano mensile che potete decidere voi quale gusto scegliere e poi arrivano questi di qua che sono dei biscottini allo zen che praticamente sono dei piccoli croccantini che comunque aiutano a far rilassare il cane o comunque a darlo come premio quando fanno qualcosa e quindi sono davvero utili quindi sono degli snack portati di mano e ad Astor piacciono molto e per questo mese c'era anche la rivista, quindi davvero ottimo perché potete trovare tutti i consigli tutti i vari dettagli per quanto riguarda la consulenza di Berkine perché oltre a questo piano mensile, quindi tutto ciò che potete trovare all'interno di questo scatolone che già come potete vedere qua c'è l'altro scatolo quindi all'interno di questo potete scegliere o gli snack o con il codice sconto che vi lascio qui sotto potete scegliere anche un giocattolo ovviamente sono delle consulenze fatte appunto da medici specializzati quindi nel settore potete stare tranquilli perché faranno comunque il cibo personalizzato per il vostro cane ed è davvero utile come cosa quindi vi lascio il link qui sotto così potete comunque approfittarne di questa promo perché potete avere o gli snack o comunque qualsiasi altra cosa che siano le cocce per il cane, che sia comunque un giocattolo troverete anche la rivista io vi saluto e vi saluta anche Astor ciao